Ciao, sono Daniele Dazzelmatter e benvenuti ad una nuova Reaction! Ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 21 in avanti faccio live sul sito Viola e stiamo scoprendo un sacco di creature mitologiche affascinanti nel programma Primo Appuntamento ed eccoci giunti alla terza puntata Sono Sonia, vengo da Genova, faccio la dog sitter I animali non ti tradiscono, i uomini sì I cani non è che non ti tradiscono, i cani scoprano con qualsiasi altro cane, non sono fedeli non hanno nessun tipo di emozione da quel punto di vista anche il cane di Hitler era bravissimo con Hitler quindi che cosa, un pezzo di merda il cane di Hitler Per questo primo appuntamento mi sento proprio gasata, con proseguimento Piano che quelle tette escono fuori, poi è un casino andarle a raccogliere per il locale Io faccio la dog sitter Ah, quindi sempre a contatto con gli amici pelosi? Sì, il mio è un volpino incrociato con l'evriero nano Ah Poi ne avevo anche un altro, avevo un volpino incrociato con Beagle che quello era proprio il mio amore è mancato quando aveva 12 anni Rex è morto Ah, il volpino incrociato, mh mh, certo Aspetta che lo aggiungo all'elenco di cose di cui non me ne frega un cazzo Era il mio cagnolino preferito e veniva con me, dormiva con me, faceva tutto con me Ma un momento, però il cane che avevo prima ce l'ho, eh Cioè? È morto ma ce l'ho Oh Cristo santo, hai impagliato il cane come quelli di Scrubs? No C'ho le ceneri Sette nude Sì, eh, non potevo Il mio Rex era il mio Rex E dove le tiene? Le tengo sopra alla vasca della tartaruga anche là imbalsamata Ma che cazzo, ma c'è un santuario della morte a casa questa donna Ogni tanto, quando mi manca, apro l'urna bianca e rossa E mi faccio una tirata di cocaina con le ceneri del mio cane morto Me lo coccolo un po' e poi lo rimetto dentro Questa è pazza, io non voglio essere al posto del poveraccio che gli hanno affidato Cioè, apre la scatola del cane morto e coccola le ceneri Oh, quanto mi manchi, Rex Sento ancora il tuo dore, Rex Ma è da molto che è single? Un anno, per problemi di corna Di corna? Che reazione è? Problemi di corna? Ho deciso di andare a buttare la spazzatura Io ho chiacchierato anche con una signora giù di sotto Sa, una chiacchiera, tira l'altra E come l'ha scoperto? L'ho trovato a letto con un altro Non ci credo Proprio scena da vacanze di Natale Arrivo su, apro la porta E cucù sentete, sorpresa! Cose che capitano Però, al di là di tutto, è una persona che mi sta suscitando simpatia Nel senso, non mi dispiacerebbe conoscerla A vederla dieci minuti in un anno Però, quei dieci minuti sarebbero simpatici Chi ha l'uomo pelato con il bap Ma che cazzo di persona è? Sono Stefano E nella vita faccio il proiettile umano Mi piace essere sparato dai cannoni al circo È una di quelle persone lì Di Milano e lavoro in un'hamburgeria Con mia madre il rapporto è un po' così Mi dice Trovala, trovala sta donna Ai 40 anni sei l'unico Perdonami Stefano 40 anni portati malissimo Io e te ci passiamo 4 anni di differenza Sembro tu un ipote Stefano Ben arrivato Grazie mille Che bei fiori Nooo Ma dai, ma che faccia ha fatto lei? Questa è la faccia che può fare Scarlett Johansson Quando entra un qualsiasi uomo Tu, com'è che si chiamava? Rosina? Vabbè Datti una calmata Almeno conoscilo Magari è simpaticissimo Per questo primo appuntamento sto già... Dai ma che faccia di merda Mi fa incazzare sta qui Ti fa cagare Ci sta Ognuno ha i propri gusti Ma almeno presente non fare sta faccia È un programma televisivo Sorridi un attimo Ti godi una serata diversa Un'esperienza Poi lo mandi a fare in culo Prego Grazie Gentilissimo Che bel pensiero Lei ha detto questa frase Ce l'aveva scritta sulla mano Grazie gentilissimo Che bel pensiero Cosa peggiore che mi possa capitare Magari stare zitto davanti a lei un quarto d'ora Bene Subito Io credo molto all'angelo custode Potrebbe arrivarti all'angelo custode Per dirti Lo rompiamo sto ghiaccio Comincio a capire perché è singola a 40 anni comunque Stefano Mi ricordo più il tuo nome scusa Stefano Stefano io Sonia Avevo dimenticato anch'io e tu Complimenti a tutte e due Capisco che possa passare dalla testa il nome appena conosci una persona nuova Però l'unica conversazione che avete avuto è stata Piacere Stefano, piacere Sonia Allora siamo a posto Da dove vieni? Milano Quante ne hai? 40 Cos'è un colloquio di lavoro? Vai Lavoro in un'hamburgeria a Milano E io faccio la dog sita Mi piacciono gli animali? Buonasera Buonasera Benvenuto Meno male che è intervenuto il barman a togliere questo imbarazzo Perché stava dicendo Sì mi piacciono gli animali Dipende un po' da come li cucinano Grazie Faccio un calice di bollicine Assolutamente Io credo molto che il mio primo appuntamento possa trovare la donna che mi possa far perdere la testa Come hobby quest'uomo sta sui cruscotti delle macchine e prende tutti i movimenti che fa l'ammortizzatore Vivi con i tuoi? No sono già 6-7 anni che vivo da solo Beh cazzo 40 anni e 7 anni che vivi da solo vuol dire che sei uscito di casa a 33 anni Gola secca Tanta sete Ho avuto un po' di esperienze sì Non capisco se lui è super arrapato e gli sta venendo il fiatone per l'eccitazione La guarda come un toro ingrifato e gli Che ne diresti se prendessimo un primo per uno e l'assaggiassimo un po' uno o un po' l'altro Magari scegli un primo e io ne scelgo un altro Sì va bene No questa è una cosa che odio vaffanculo Vaffanculo Donne sappiate che se venite a cena con me tu ti mangi il tuo Io mi mangio il mio Sono disposto a pagare per un piatto in più da dividere Ma non voglio dividere quello che ho scelto di mangiare Mi dà fastidio Non è condivisione La condivisione è un desiderio di assaggiare qualcosa in più entrambi Non la mia porzione Perché se volevo mangiare quello che mangi tu me lo sarei preso E un secondo lo scelgo io Sì facciamo così Io sono una donna molto ma molto passionale Io sto cercando la mia metà della mela E di Torino la mia metà della mela E io sono mezza mela Ma voglio l'altra parte Dividiamo anche dolce Ma tu sei già arrivata in dolce Io dobbiamo arrivare prima No dicevo Facciamo un divisore di tutto Praticamente sono single da sempre È successo una serata che siamo usciti in quattro E c'era questa ragazza qua Alla fine della serata è scoppiato un bacetto di 20 secondi Che per me è stato come aver vinto un trofeo Poverino Stefano è vergine quindi Cioè il massimo culmine della sua vita sessuale è stato un bacio in questa serata di 20 secondi Ma 20 secondi di lingua 10 secondi di labbra 10 di lingua 20 secondi solo di labbra Stefano Sì più preciso Siamo curiosi Non ha studiato Stefano Non è stato attento Non sa cosa rispondere Una cosa devi fare Stefano Stare attento in queste due ore di serata Tutto il resto della tua vita puoi essere sbadato Hai dato solo un bacio di 20 secondi della tua vita Quindi questa è la tua grande occasione Stai attento ad ogni c***o di parole E il suono che esce dalla bocca di Sofia Dici sul amore? No Non ho capito non ti stavo seguendo Sul dolce E da allora non so più successe incontri con ragazze o baci Non lo facciamo al centro eh Cioè lei si sta buttando il cibo nelle tette? Vuoi venirlo a mangiare direttamente? Questa è la parte che abbiamo deciso di dividere insieme Vieni a prenderla Stefano Guardate lui come ride da signorina Gli è caduto il cibo nelle tette È una scolaretta emozionata Guardatelo Che segno sei? Bruttissimo Capricorno Avete capito? Il capricorno è un segno bruttissimo In chat c'è qualcuno del capricorno? Io è il cancro Come dicono qui Ma che cazzo di reazione è quella di Stefano? Di che segno sei del segno che ha detto? E tu invece cancro Ma a che stadio? Cioè la guarda veramente come se lei gli avesse detto Non il segno zodiacale ma la cartella clinica Adesso guarda ti dico la sincera verità Ho perso un pochino la fiducia negli uomini Perché ho ricevuto sempre corna È stata brutta anche quella lì eh? E allora ci vado con i piedi di piombo Ah Stefano è veramente una persona che lavora al circo Al freak show degli anni 30 Immaginatevelo con una canottiera tigrata Dei pesi che solleva È l'uomo più forte del mondo Stefano È proprio l'immagine che nei film ti danno dell'uomo più forte del mondo Pelato con i baffi Cannottiera tigrata E lo vai a vedere al circo Com'è invece sfondi la porta a parte Perché tanto io praticamente Non è E così glielo dice 40 anni vergine gli spara la bomba così Stai tranquilla io non ti tradirò mai Perché in 40 anni della mia vita Non sono riuscito a fare da solo Figurati se mi metto a tradire Non è avuto Sei Wow Madonna Sonia Non perdere questa occasione Potrai essere la sua prima donna Ci andrei pure io con Stefano Solo per dire sì Io gli ho rubato l'innocenza Quindi vedi per quanto riguarda le conne Capisco che sei una persona romantica Fai il bacio a mano Quello che vuoi Hai portato le rose Però A un certo punto Arrivato a 40 anni Una capatina mignotte Si può anche fare Non c'è niente di male Oddio Corna zero Quindi quando non ne faccio nessuno Dopo la prima cosa importante Che quando tutti noi nasciamo Che la vita è la prima cosa E l'amore viene E l'amore viene per secondo Mi sono perso Complimenti Stefano Cioè ha dei seri problemi a seguire un filo logico mentre parla Non era una frase difficile Che fai Aspetta che riprendo il filo Ok Ok ci siamo Hai perso l'autobus Ho perso l'autobus Ho perso la 90-91 Ah oppure la tramontana Ho perduto la tramontana L'ho perduta Cercando a te Chi la canta Chi la canta Ma perché fa questi intercalari a bassa voce Chi la canta Mi fa morire Stefano Voglio uno Stefano della mia vita Che miseria Che non mi viene C'è un momento di lapis No C'è un momento di lapis Complimenti È il momento delle matite È il momento di lapis Quando non ti ricordi una cosa Compro una scatola di lapis E vedi che la memoria ritorna Sono un po' cambiato Potrei essere pronto Anche fare anche una mezza pazzia Fare anche un biglietto Di sola andata Per Però il paese Glielo facciamo scegliere a lei Ma perché devono trasferirsi entrambi? Sono animato preferito I puffi Stefano Hai 40 anni Non ne hai 80 Non ne hai 80 Fai parte Per un soffio Per non so quale Dio Ingrato Della generazione Dei millennials E il tuo cartone animato preferito Dopo una lunga pausa È I puffi I puffi Che c***o Dici Stefano Ma dove vivi? Ma ce l'hai internet? L'hai mai accesa la televisione? Non ho parole Parole? Bene Anch'io Oh Vaffanculo Mi rimaggio tutto quello che ho detto A quanto pare i puffi spaccano Sono fuori io dal giro allora Devi un uomo Devi un amico mio Lo ricordi di devi un uomo? Che? Dolce preferito Mille foglie con sopra una valanga di cioccolato Non si discute invece col mio Cavolino con panna Che c'è? La cappella No 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 Non dire È la finale Si chiama così La chiamano così Ah vorresti dire cappella E cosa stava Ah vorresti dire cappella Chissà che cazzo pensava Stefano È fosse un animale Un trichecco Perché è pelato Cioè i trichecchi sono pelati Perché Però Più o meno abbiamo avuto lo stesso La stessa associazione Io ho detto un narvalo Lei dice che Stefano è un trichecco Perché è pelato Adesso voglio sapere se ci sono magari in gioventù Trichecchi con i capelli Eccoci qua Allora Prego la Un Eros per lei Certo Ammazza che bell'Eros Stefano sta morendo Valanga di emozioni Ogni minuto che passava Sempre più forti Buono questo Madonna Più scavi più esce fuori cioccolato La cena è stata fantastica Ultra strong Allora Quando è arrivato Quando Stefano ha fatto l'ingresso al ristorante Se non l'avete visto prima Sonia l'ha guardato malissimo Ora invece a quanto pare Comincia a ciucciarsi le dita È super eccitata Silvia Bene Sonia Una cena così non è mai capitata in vita mia Cosa è successo? Orgasmo Oddio Disturbo Trattieni di un attimo Sonia Cioè non è entrato il pelato di Brazzer Flavio Flavio mio Flavio E io poche parole gli volevo dire Ma tu sei qua per me o per Flavio? Stefano calma eh Cioè Vai vai piano C'è ragione comunque Mi starei incazzato anch'io Ma facciamo prima io e te qua Posso tenerti? Sì Sta diventando un toro Adesso però facciamolo tutti e tre insieme Sì dai Però non gliel'ho detto Eccoci qua Vieni Quando lui deve fare un selfie La prima cosa che fa è tirare fuori la lingua Allora di Diciamo che Sì Lei vuole il bacio Si sta mordendo le labbra Stefano non fare il Diciamo che siamo Siamo quasi uguali Bene o male Super giù Super giù sì dai 3x4 12 Si sulle battute ci siamo No tu cioè Non ci siete sulle battute Tu dici cose E lui non capisce Io non Non so Tu Sei provato Emozioni Io Sta scordando tutte le parole Che ha imparato nella sua vita Stefano in questo momento Io non so Più Un cazzo Stefano non mi fare incazzare Porco due Non è che Ci sono segnali da interpretare qua Lei non ti sta ascoltando Sta guardando solo la tua bocca Stefano La parte tua Non lo so Anche per me è stata una bella serata Ora te l'ha detto esplicitamente Stefano Le prendo assolutamente I fiori Arrivo subito Grazie La compagnia era tutto La stai annoiando Grazie mille È stata molto fortunata Non tutti arrivano con dei fiori così belli No infatti Ti volevo anche ringraziare il mazzo di Rose e Rose Che mi hai regalato Ok Stefano Un buon proseguimento di serata Grazie Arrivederci Tira fuori la lingua Buonasera anche a lei Però Purtroppo Non è scantata la scintilla Non ho le farfalle nello stomaco Vaffanculo Sonia Vaffanculo Stefano Stasera si torna Come il solito Ancora pugnette Una valanza di emozioni Sì stasera sì tante Proprio non è scattata la moda Lui c'è rimasto veramente di c***o Pensava di aver conquistato La molla è rimasta bloccata Hai passato la tua vita Piena di tradimenti e corna In momento della rivincita Puoi sverginare un uomo Che è arrivato a 40 anni Ricordiamo che questo tizio Ha 4 anni in più di me Se è arrivata alla sua età Cioè è arrivata alla sua età Prenditi questa medaglia Prendilo Prendi la sua virginità Sarete felici in due E invece no Stefano e Sonia Dopo l'appuntamento Non si sono più sentiti Né visti Lui è ancora in cerca del primo amore Ancora vergine No Stefano Ma nonostante i suoi 40 anni Vive l'atteso senza problemi Aspettando che arrivi la donna giusta Anche per lui La dog sitter Sonia invece Tornata dai suoi peluche E dai suoi animali imbalsamati Ogni sera prima di addormentarsi Sogna l'amore Accarezzando le cieli Del suo cane defunto Ma neanch'io avrei saputo scrivere Una conclusione migliore Bene ragazzi Il video di oggi finisce qui Spero che vi siate divertiti Come sempre fatemi sapere Cosa ne pensate nei commenti Iscrivetevi al mio canale Lasciate un like E noi ci vediamo Questo venerdì Con una try not to love challenge Bomba Una puntata veramente bella E martedì prossimo Con una nuova reaction Ciao